Domani alle 17.30 allo stadio Partenio Lombardi di Avellino, l'ultimo match del 2022 Avellino-Pescara. All'andata il Pescara si impose per una rete a zero con gol di Facundo Lescano. Non ci sarà Erdi Scraia, il centrocampista accusato un fastidio muscolare nel riscaldamento del match contro il Picerno. Nulla di grave, ha detto il tecnico Colombo, ma domani non sarà della partita. È indisponibile il centrocampista di proprietà dell'Atalanta. Per il resto, con l'eccezione di Plizzari, Pellacani e Palmiero, tutti abili ed arruolabili. In attacco giocherà uno tra Tupta e Vergani, con Tupta che appare favorito. In difesa, ballottaggio, Crescenzi, Cancellotti. Per il resto potrebbe essere confermata la formazione che ha giocato contro il Picerno. Il tecnico Colombo in conferenza ha anche parlato dell'intervista rilasciata alla nostra emittente dall'attaccante Facundo Lescano. Ma con le immagini di Diego Martelli possono partire i passaggi chiave della conferenza stampa del tecnico Biancazzurro. Buongiorno mister. Solita prima considerazione su eventuali defezioni dell'ultima ora, se c'è qualcosa. Come è andata la settimana e che partita si aspetta domani al partegno? Buongiorno a tutti. A parte Craia, che dopo la partita con il Picerno ha avuto questo piccolo problema muscolare che si risolverà, si crede in breve tempo e non sarà della trasferta di Avellino, gli altri sono gli stessi. La partita per noi è una partita molto 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 importante. Il momento lo sappiamo tutti e stiamo attraversando sicuramente non è dei più brillanti, dei più positivi in termini di risultati, in termini di prestazione e quindi quello che dobbiamo fare domani è veramente una prova di carattere e uscire dal partegno, sicuramente cercare di fare punti. Questo sarà determinante, ma ripeto, la prova, la prestazione sarà necessariamente e doverosamente ricercata nell'aspetto caratteriale, nell'aspetto psicologico, dove poi siamo magari mancati o in questo momento può essere un tallone d'Achille che influisce anche su il modo, il rendimento e la prestazione. È il bello e il brutto del calcio, perché si può essere magari in una posizione di classifica migliore rispetto all'avversario, ma in un momento opposto a livello di rendimento, di risultati, a livello mentale. Oggi c'è questa contrapposizione, è chiaro che c'è la volontà di riuscire a chiudere in maniera degna questo anno, fatto per buona parte, per lunghi tratti, condito da risultati e buone prestazioni, inficiato chiaramente dall'ultimo periodo. Per cui è inevitabile che ci sia la considerazione di questa partita diversa rispetto alle altre, perché le partite sono sempre e tutte importanti, ma è chiaro che questo, per il momento che stiamo vivendo, assume ancora un'importanza superiore alle altre. L'Avellino dal punto di vista tattico, l'Avellino dell'ultimo periodo, è un Avellino che, almeno i numeri dicono, ha blindato sostanzialmente la difesa, perché nelle ultime cinque ha subito un solo gol. Chiave di lettura della partita e dove deve essere bravo il Pescara tatticamente? Sono partite particolari in questo momento, perché, come abbiamo detto, ci sono aspetti tecnici, aspetti tattici, ma soprattutto aspetti che sono legati alla testa, e quindi è lì la partita, nostra, quantomeno nostra, perché poi diventerà fondamentale, visto anche il modo di stare in campo dell'Avellino, mi sembra una squadra che è molto orientata ad essere aggressiva in fase di non possesso, ad accettare i duelli in ogni zona del campo, quindi bisogna avere il coraggio di accettare e andare a duello. Ed è chiaro che più duelli poi si vincono in zona del campo, più una squadra prevarrà rispetto all'altra. Sotto questo aspetto, quindi, ci si deve mettere bene in mente che qualunque sia l'andamento della partita, c'è sempre una possibilità, per cui non mollare in mezzo alle difficoltà diventerà fondamentale, reagire al momento di impasse che stiamo vivendo sarà fondamentale, quindi l'aspetto caratteriale, ribadisco ancora una volta, sarà quello che ci aiuterà ad uscire o meno da una situazione come questa. Faccio l'ultima da parte mia, è chiaro che c'è stata un'intervista particolare in settimana, se voleva dare una risposta a quelle che erano le parole di Lescano. Io credo che in questo momento ci sia un problema più grosso che un problema singolo, è un problema collettivo. Io alleno il Pescara, non alleno un singolo giocatore staccato dal resto del gruppo. Quindi è chiaro che, credo che poi si sia anche ingigantito, se andiamo a vedere i numeri del tutto di questa situazione, si sia ingigantita una particolare e singola situazione, ossia Lescano ha giocato fino a Ocola a Gelbison, poi un infortunio gli ha fatto saltare il Messina, dove ha giocato Vergani, ha fatto gol ed è stato riproposto la partita dopo con la Turris. Dopodiché, dopo con la Turris, Lescano è stato titolare, sia col Catanzaro, sia col Francavilla, e sia con il Taranto. Sostituito alla fine del primo tempo, la partita dopo, gioca di nuovo Vergani, fa gol e viene riproposto. Quindi sostanzialmente, Lescano ha sempre giocato con noi, tranne l'ultimo periodo, dove, come ribadisco, l'ho visto un attimo in calo, come altri, siccome ho visto meglio, e lo ribadisco qui, altri giocatori, io non sono legato, come diceva anche il direttore, ad un singolo, perché poi riconosco quello che ha fatto per la squadra Lescano, ma poi ci si aspetta sempre che un giocatore dia. Nel momento in cui dà meno rispetto a un altro, credo che sia giusto dare l'opportunità agli altri, senza polemiche, o senza, come dicevo l'altra volta, lasciar per strada nessuno. Se poi uno è arrabbiato, ne sono contento, perché significa che ci tiene, quello che ci si aspetta, poi, è la reazione. Quando si vede la reazione, è un giocatore importante, come tutti gli altri, per il Pescara. Se non c'è la reazione, qualunque persona può parlare, può dire la propria, ma poi, alla fine, se non sbaglio, Mora al termine della partita ha detto poche parole e molti fatti. È quello che dobbiamo fare. Quindi, poche parole e fatti.